queste erano le bombe michele ma ne mancano alcune perché adesso introduciamo il secondo contenuto di questa live che è le migliori ristampe perché ci sono anche delle ristampe quelle che abbiamo visto adesso erano tutte ristampe bomba no quelle erano nuove carte su arena qui ci sono le ristampe allora se uno dei problemi di outlaws of thunder junction è che va contro l'economia di arena ci sono delle piccole bombe che un pochino aiutano i nuovi giocatori ad avere delle carte precedenti partiamo dalla prima no partiamo dalla prima e vabbè vaffanculo archmage charme ristampato che ti venisse si è la prima volta che mi fa cagare l'arte sono brutte tutte sono brutte tutte le altre ragazzi ma questa è una ristampa della madonna per l'economia di arena poter avere in un draft la possibilità di piccare archmage charme e dire oh gioco finalmente in historic senza dover spendere una rara è tanta roba ragazzi si ma tutti quelli che c'erano di contro è bellissima questa sì questa per chi ce l'ha già è praticamente lo voglio fare un po più bello il mazzo a livello di grafica e vai a metterci questo ti piace sta roba se invece come te ti fa schifo esatto sì probabilmente la giocherò per il per il contenuto ma non per altro si trovano nelle buste di arena devo draftare devi draftare l'ho detto prima sì 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 non ne sbusti queste è come se tu aprissi un collector praticamente nella loro logica no e non è vero però vabbè è la loro logica raga però è tanta roba che ci sia archmage charme in un'espansione da standard eh sì non so se volevi l'archmage charme adesso ce l'hai più bello sì ma pensa quanti pensa quanti draftatori di nuovi giocatori che ci sono e hanno la possibilità di piccarlo cioè fuori di testa questa cosa qua è fantastica tanta tanta roba e non è la spell più forte che c'è non è una jojo art sei pronto più belle le jojo art eh oddio no oddio no ma l'avevo già detto infatti non è questa di sei pronto però loro la devono vedere ristampona anche questa ragazzi questa è la volta buona che questa è una ristampona questa è una art carina questa è bella cioè questa è approvata al 100% ed è proprio bella 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 e raga cioè brazen borrower in draft è fortissimo è fortissimo e poi cosa dobbiamo dirvi la forza di brazen borrower la conosciamo tutti tra l'altro sta tornando ad essere giocato anche in multiformato molto bene che arrivi molto bene che arrivi qui vanno molto incontro ai giocatori è mitico è forte è giocato in multiformato cioè tanta roba cioè poco da dire ce l'abbiamo ce l'abbiamo tanta tantissima roba prossimo ah sì giusto e poi c'è questo ma perché perché c'è bisogno di ristamparla eh allora sì in realtà sì perché binding è rara questa è mitica questa è mitica se sei uno che c'ha le mitiche da buttare con il pay compagnia hai praticamente esatto eh ma ragazzi guardate che questa binding costa di meno dell'altra questa binding costa di meno dell'altra oddio dipende che formato giochi so che timeless t'attacchi t'attacchi se giochi storico no se giochi storico avere la possibilità di usare quattro mitiche invece che quattro orare no è per andare incontro all'economia ragazzi eh questa è una buona cosa eh questa è una delle poche ristampe sensate è l'arte brutta siamo d'accordo però sull'ottica di arena quattro mitiche costano meno di quattro orare quindi è così l'arte ragazzi sarebbe il tipo che viene legato sui binari del treno e solo che il treno è fantasy però fan cagare queste art sono d'accordo poi io qui lo dico qui lo nego twitch mi dissocio da quello che sto per dire ci sono delle cose particolari in questa art che potrebbero far discutere sulla sinistra ma all'improvviso sparirà all'improvviso eh ok ok non diciamo niente ok ecco bene eh andiamo avanti ristampina ragazzi vabbè occo eh ho capito però questa è questa che non capisco il perché questa è mitica e rimane mitica no è per timeless in timeless si gioca c'è già perché la ristampano qui la risposta è per dare la possibilità ai nuovi giocatori di draftarle di non dover usare per forza la versione vecchia di wilds of eldraine però a parte il fatto che in draft è fuori di testa cioè spacchiamo un po' il draft perché vince da solo vince completamente da solo hai draftato due buste un mazzo a caso alla terza ti apparevo con o beh toccherà fare sì mica caso sperando di sperando di avere abbastanza carte a metterci dentro e poi è legale anche draft cartaceo certo cir e ragazzi posso dirvi che fa schifo quest'arte questa è proprio brutta brutta però è una bomba di ristampa e non possiamo dire il contrario benvenuto a anzi bentornato a occo in limited questa è scapeshift c'è già sua arena 4 mana ti sacrifichi un qualsiasi numero di terre passi in rassegna il tuo rimorio per far entrare altrettante terre sul campo di battaglia però scapeshift si è sempre giocata in moderne i mazzi valakut qui fa fatica scapeshift ma adesso c'è timeless e quindi qualcuno potrebbe dire ma sai che sì anche perché passi in rassegna il tuo rimorio no e poi penso che sia l'unica versione full art di cui disponiamo di scapeshift su arena ed è bella obiettivamente bella è un po' sgranata ma credo che sia la qualità dell'immagine in realtà non è solo quella nel senso se tu guardi il grigio fa schifo sul font ok però le parole e tutto il resto del tuo sgranato sì sì però quello che intendo è guarda il bianco sul grigio sì però che potevano scegliere un modo migliore però è full art così carina ci sta apprezzata se diventa una staple dei formati ragazzi anche qui vanno un po' incontro all'economia dei nuovi giocatori perché non ce l'hanno sicuramente questa chi cazzo ce l'ha schifo e se la sbusti la sbusti la sbusti quindi è tanta roba tanta tanta roba mi immagino un commander e altre robe saranno contentissimi di avercela sì sì questa l'avevamo già vista questa è l'art carina invece art approvata bene scusatemi un attimo ma in draft c'è Toxiz perché in draft c'è Toxiz ha messo a occupo non puoi mettere Toxiz capito ma ma è fortissima Toxiz quindi io che ne ho causate 4 ore me la piglio in quel posto tu sì un nuovo giocatore ringrazia ringrazia io sono sempre quello che ringrazia meno cioè è incredibile come da quello che sperava in qualche ristampa comune uncommon come Elika adesso lo prende sempre in quel posto sì però in realtà questa ristampa non è così male perché passare da rara mitica c'è sempre la possibilità che i giocatori di storie dicano cazzo non ho mai rare le tengo per le terre 4 mitiche diventano Toxiz può benissimo essere può benissimo essere devo dire che ti do ragione questa è una delle poche art che mi piace ed è sicuramente più bella di quella che abbiamo su arena purtroppo su arena non abbiamo questa è così non esiste l'art è così non puoi craftarla come art esiste solo quella non è quella di Lorwyn che mi fa diventare matto ci sono le terre di Kamigawa sì ma non ne vale la pena di prendere 5k luna appunto questa è una delle poche art che mi piace però non è i livelli di quella di Lorwyn proprio 0 proprio 0 0 0 carretto carretto ristampato raro però mannaggia allora va bene per i nuovi giocatori che lo prenderanno con i draft quindi tutto sommato c'è sì 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 appunto va bene per i nuovi giocatori che lo prenderanno per i draft tutto sommato non ha né arte né parte nel senso una carta forte una carta che si gioca che sia presente in un'espansione standard ed è draftabile va bene può essere giocato in tantissimi mazzi è tuttora legale in standard sì perché è di capenna quindi poi esce fuori a luglio e in realtà non ruota no non ho ruota non è legale in standard questa questa è se siete ristampa più tanto per averla ristampa esatto è una ristampa per averla ristampa ma tanto si gioca in Pioneer quindi non c'è problema esatto sono contenti quelli di Explorer esatto 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 adesso dovrebbe esserci l'ultima e questa è forte ragazzi l'ultima è mitica sapete che carta è è Vanishing Verse due mana nei colori specifici Orzov esilia un permanente monocolore bersaglio perché dico che è un'ottima ristampa per l'inizio dello stesso discorso di prima anche prima era rara però questa la puoi prendere nei draft e nel draft non sto qui a dirvi quanto è forte perché questa è forte l'art non c'entra nulla non so cosa c'entri questa art con Vanishing Verse però ok possiamo dire ok possiamo dire che ci sta tutto sommato guardate adesso io magari se riesco ve le metto tutte su schermo si no no ci si riesce ci si riesce allora secondo me potevano essere anche si potevano essere anche un po' più che ho fatto vediamo no niente potevano essere anche un po' più diciamo generosi nel senso che mi sarei aspettato un po' di ristampe più sugose ok nel senso potevano fare dei downgrade potevano aggiungere carte che sono già presenti rare su arena e farle uncommon potevano fare più carte in questa maniera perché comunque non sono tante no si sarà pronta la cena potevano fare più carte per andare incontro a quelli che sono le necessità dei giocatori anche carte più specifiche ok più specifiche per mazzi più specifici teferi per esempio teferi potevano farlo potevano fare wandering emperor mitica invece che rara no è già mitica scusate potevano fare non lo so fatemi pensare archmage charm potevano forse downgradarlo ok perché se tu downgradi archmage charm non è che vai a fare un danno sull'economia dei giocatori non sta così alto archmage charm mi pare stia 5 euro in cartaceo se non è risalito per qualche motivo potevano farle quelle mosse lì non lo hanno fatto però però va bene nel senso che comunque ci hanno provato ad andare incontro un pochino alla necessità di risorse di cui arena è sempre sempre tiranna o o non lo ho che mi pare non lo ho si